Ciao ragazzi, sono Teddy Plo qua con DJ Skunk Siamo qua per dirvi che il 5 e 6 agosto saremo a Bottida per presentare il Suicide Show Vogliamo ringraziare l'associazione Maria Paula De Dola che ci ha portamente voluto lì a Bottida Perciò cosa fate? Non venite, 5 e 6 agosto, Bottida, Teddy Plo, DJ Skunk, Suicide Show